Vediamo What? What? Aspetta, ma che ca... Che tirata di texture Ok Questa è una dimenticanza Qua c'è un buco qua sotto Come cadono i cosetti Che tirata di texture Questo non so come sono riusciti a farlo Sinceramente Gli sede formato Ah, ok Sto vedendo Di solito per chiudere Il bordo Ci sono le pietre Ci sono, ok Quello che vedete È il terreno Che ha la texture È normalissimo che sia così il terreno, ok Però a quanto pare sotto Hanno avuto una dimenticanza del terreno La roccia Che lo ricopre E senza roccia che lo ricopre Fuuu C'è buco sotto Adesso Ok Mannaggia Fregatura Questa è una dimenticanza Abbastanza Grossa Spagnie La roccia La roccia La roccia questo è il piccolo root che è qui sopra nascosto ma quell'altro I don't know come se chiudesse un passaggio e nascondesse qualcosa sotto secondo me era da attivare col boss quella roba però perché non mi viene in mente altri modi che caspita serve aiuto aiuto mi devo guardare il naso si escono fuori tutto dal santuario uno alla volta dal santuario però so già che qualcosa lo lascio indietro qua poco ma sicuro allora non esplora l'altra parte qua a destra vedo c'è già un coso vedo che non ci sono piantine da seminare qua dove caspita si va perché qua va avanti quel villaggio colpo caricato è il più forte vedo qui vedo qui grrr grrr queste sono pieti a distruggere a caso vede che c'è la parte lì devo portare fino a qua no fino a qua che palle avere cliccato per schivare però non sempre funziona dovrei dire non sempre funziona questa casa qua sotto non l'ho esplorata sicuramente carino carino per cappellino e ci danno speciale zona speciale lui non l'ho esplorato però sinceramente caspita c'era il cosetto che neanche l'ho preso non 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 Buon appetito! Esagerato! Esageratissimo il mio polpo solo per questi Manca una lacrima qua da qualche parte eh De caspita me ne procuro una lacrima La lacrima è qua davanti giustamente eh Giustamente è qua davanti Vaya gota sto io eh Vaya gota sto io Eccola quella singola pianta Ecco la zucca che non si apriva Quell'altra zucca nel villaggio di Rusu non si apriva per niente Dov'era il coso del... Era qua in fondo se non ricordo male Eccolo qua Non c'è niente di colpi lato Sì dentro il sasso Dentro il sasso E' il sassito Secondo me Cuore del villaggio ci dovrà tornare più avanti eh Secondo me E' qui andiamo a fare a Dira un attimo Andiamo a fermare un attimo a Dira Quindi prima di tutto esploriamo la parte sinistra E poi andiamo direttamente Questa parte effettivamente Ah se andava dentro non sono andato di là Ah sempre a parte del cuore del villaggio C'è un attimo So non posso usare il potere qua sì, 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 è ricerca ok Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ho trovato la mossa che li blocca sul posto Non riescono più a reagire Un cappello da cowboy È ovvio è troppo semplice entrare così Troppo ma troppo semplice Io so già ho già capito Se c'è un altro modo per entrare di là Vedo C'è un continuo dall'altra parte Oh niente Sono pieno di roba ormai Ok sono pieno Sono pieno come un uvetto Ho usato veramente pochissimo la maschera io Veramente poco ho usato la maschera Oh igre Oh igre mannaggia finalmente Dopo dopo due ore di paella Tutto qua quattro root quattro root e ci siamo c'è tutta questa casa gigante per un singolo root pare un po' strano sinceramente dai c'è spuglio non si riesce a saltare mannaggia non c'è spuglio no 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 ok no 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 Sono felice di vedere te anche. Questa è Kaina. È qui per aiutare Adira. Può sembrava brutto, ma profondamente è un amore. Adesso a trovare l'ultima reliquia. Probabilmente. Buè! Ho paura di Adira. Adesso la paura di Adira mi manda qua, esattamente lì. Mi manda qua che... Mi manda qua. Ah, hai fatto! Mi manda qua. Il passato è bloccato, ma sicuramente Rufus può aiutare. Il corretto si distrugge prima o poi il nostro amico. Il corretto! Attenzione! Ecco adesso! Verso la fucina adesso. Non ho esplorato là. Anzi, mi conviene che esploro un attimo qua. Ah! Oh! Ok, 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 ok Ho scoperto a metà gioco che il mio coso attacco a distanza consuma un potere E' daaaah No Siiii Siii, siii Let's go Che caspita Ma mi fa venire gli infarti il gioco qua Con queste cose Che si incastrano Perché vi dovete incastrare Mannaggia C'ha una goccia No All right Dove era l'altro orto qua? Per caso C'era un solo orto? No, eccolo là lì sotto Sì Sono entrato in fondo Mannaggia Ecco, stavolta qua ha funzionato Anche questo Hello Rivello 4 eh Un momento Dobbiamo contemporaneamente Assolutamente questa Scudo del forzo Migliorata Bomba Bomba multipla Sarebbe anche questa sinceramente Sarebbe 200 200 Manca 400 800 1100 in più E ho fatto tutti i potenziamenti del gioco Praticamente E dai Non so' troppo lontano Dove essere un po' più grosso il mio Il mio spirito eh Questo verso di bestia Lo che vuole Sì Voi Sì Vei Sì 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 Grazie a tutti Oh, uff, che sei fatta? Oh, uff What the fuck? Dai, piccolini ce la fanno, dai, let's go Uff Devo aspettare un po', ma ce l'ho fatta Ho detto Oh, uff Oh, uff Oh, uff